Il mio pensiero va a quanti con esemplare dedizione operano ogni giorno per la difesa dell'incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni e dell'ambiente. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato ai Vigili del Fuoco nella ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo dei Pompieri. Il Capo dello Stato ha sottolineato l'insostituibile contributo dato dai Vigili del Fuoco nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ma anche in occasione delle recenti alluvioni e nella tutela dei beni storico-artistici e per la protezione dei beni paesaggistici.